Pio V è l'unico papa di origine piemontese e la sua figura appare tra le più significative dell'epoca moderna. È per questo che una serie di manifestazioni che hanno attraversato tutto il 2022 hanno inteso celebrare i 450 anni della sua morte attraverso un comitato per le celebrazioni che ha visto attivi sia la diocesi che la provincia di Alessandria e il comune di Bosco Marengo con il sostegno della Cassa di Risparmio di Alessandria. Il complesso monumentale del convento di Santa Croce e ogni santi di Bosco Marengo è stato realizzato per volontà di papa Pio V nella seconda metà del secolo XVI. Alla sua realizzazione parteciparono architetti artisti della corte papale di quel tempo e ciò ne fa un unicum nel panorama storico artistico piemontese. Papa Pio V, già fra Michele Ghislieri dell'Ordine dei Frati Dominicani, inquisitore generale, intervenne personalmente nella progettazione del complesso, visionando neanche i particolari più minuti affinché fosse l'espressione del suo rigoroso pensiero. Importante è il Museo di Santa Croce, il cui nucleo principale è costituito dalle tavole provenienti dal maestoso altare maggiore della chiesa progettato da Giorgio Vasari. I dipinti furono realizzati infatti dal Vasari stesso e dalla sua bottega. Quest'anno ha portato moltissime realizzazioni e passi avanti nella valorizzazione di Santa Croce e queste realizzazioni, il museo prima di tutto, ci consentono di aprire nuove piste di ricerca per quanto riguarda gli studiosi, ma anche di offrire al turismo del territorio una meta nuova, rinnovata, importante, che rappresenta una sorta di unicum rinascimentale nel territorio della nostra provincia.